Il classico di Euripide, con i suoi temi ancora così fortemente attuali, l'antitesi tra uomo e donna, popolo e aristocrazia, irrazionale e razionali. Le baccanti divena loro il racconto delle escluse e del loro trionfo sulla logica dell'opportunismo e del potere tipicamente maschile. È la storia che oggi si può fare del nostro Mediterraneo, luogo di incontro e scontro di popoli e storie di persone, di un'Europa troppo attenta al potere politico e di una terra d'Africa pronta a contaminarsi con impulsi nuovi. Per voi, le baccanti!